Antonella Clerici pazza per il Natale La conduttrice è tornata a casa dopo una giornata di lavoro e ad accoglierla Cerno e il suo compagno, Vittorio Garrone, il cane e soprattutto il grande albero di Natale La conduttrice è tornata a casa dopo una giornata di lavoro e ad accoglierla Cerno e il suo compagno, Vittorio Garrone, il cane e soprattutto il grande albero di Natale Clerici ha condiviso su Instagram il momento in cui apre il portone e con grandissima gioia esclama l'albero di Natale, il mio amore, per poi correre incontro al maestoso mix di luci e palline colorate Sarà stato, probabilmente, Garrone a realizzare la sorpresa per la sua dolce metà E potrebbe, quindi, non essere un caso il fatto che sia stato proprio Vittorio a riprendere Antonella immaginandosi la reazione della compagna, reazione che non poteva non essere immortalata Nelle storie Instagram poi Clerici ha condiviso una storia interamente dedicata all'albero in cui lo mostra soddisfatto Document.Rai. Faccina triste, il tuo browser non può riprodurre il video Devi disattivare Hubblock per riprodurre il video Play replay play replay pausa Disattiva audio disattiva audio disattiva audio Attiva audio indietro di 10 secondi avanti di 10 secondi Spot attiva schermo intero disattiva schermo intero Skip il video non può essere riprodotto, riprova più tardi Attendi solo un istante, dopo che avrai attivato JavaScript Forse potrebbe interessarti, dopo che avrai attivato JavaScript Deve attivare JavaScript per riprodurre il video Quindi un punto sottolineatura Document.Rai. Faccina triste, quindi un punto sottolineatura . Format! Obviamente, da ignorano lada Spirlo! 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 Grazie a tutti.